Siamo in Regione Lombardia alla presentazione del Trittico Lombardo. Abbiamo con noi Stefano Di Bucci, responsabile area Lombardia di Zurich, a quale rivolgiamo subito la domanda d'obbligo. Stefano, perché sostenere l'Unione Sportiva Legnanese e la Coppa Bernocchi in questo progetto sportivo? Sono molto lieto di essere qui presente come Zurich e come Zurich vogliamo ringraziare sia l'Unione Legnanese che il Presidente Luca Roveda per averci dato la possibilità di partecipare e di essere parte nella 102esima edizione della Coppa Bernocchi, gara fondamentale del Trittico Lombardo. Con il supporto a questa iniziativa Zurich vuole sottolineare l'importanza dello sport come strumento di benessere fisico e mentale sia a livello professionistico che a livello amatoriale. Inoltre ci uniamo all'Unione Legnanese per promuovere la cultura sportiva anche tra i più giovani. Perfetto. In un momento da più parti arrivano segnali di ripresa, di ripartenza. Zurich è a fianco del territorio e come? Allora, con la presenza alla Coppa Bernocchi Zurich da un lato vuole sostenere e sottolineare l'importanza del supporto a livello territoriale, delle iniziative che vengono svolte dal territorio ma al tempo stesso vuole sostenere il ciclismo professionistico decisamente colpito dal periodo di pandemia. Perfetto. Noi la ringraziamo, ti ringraziamo. Grazie a voi. E ci vedremo lunedì alla Coppa Bernocchi. Grazie. Grazie ancora.